Ho visto una talpa. Oggi ho visto una talpa piccolissima. Io ho visto una talpa molto grande. Io ne ho vista una che era molto veloce. E? E io ne ho vista una che era lenta come non mai. Oggi io ho visto tantissime talpe. Tu pensa! Io invece ho visto una talpa di qua e una di là. Ma guarda! Io ho visto una talpa tutta sotto sopra. Da non credere! Eccola! È lei! Sì, è lei! È lei! È lei! Sono loro! Sono loro! Sono loro! Oggi, in giro, non si vede proprio nessuno. Nessuno! Nessuno! Fine della storia.